In questa sera in penombra, passa accanto a me, cerco cose nascoste ai dotti e ai sapienti anche a me. Un verticello leggero, possa soffiare su noi, e sussurrarci ancora che ci sei. Benedici, benedici, benedici anche a me. Benedici, benedici, benedici anche a me. Benedici la terra, tanto affettata d'amore. Benedici il cielo, tanto affamato di sole. E tutto quello che è in mezzo, vive assetato di te. Tu che non schiacci il mio grido, benedici anche a me. Benedici, benedici, benedici anche a me. Benedici, benedici, benedici anche a me. Benedici, benedici anche a me. Benedici, benedici anche a me. Gli dici, benedici anche a te. E faici amare anche a te, facci amare anche a te. Spingi il nostro cammino dal tramonto all'alba con te. Una nuova visione, tu prepari per noi, vada in pezzi quest'ora, e io sogni con te. Benedici, benedici, benedici anche me, benedici la vita, ogni germoglio che c'è, riempi la casa di luce e di tenerezza per me, ci fioriscano gli occhi, se ci guardiamo fra noi, spezza le nostre catene e appoggiaci a te. Benedici, benedici, benedici anche me, benedici, benedici anche me, Benedici, benedici, benedici anche me, benedici, benedici anche me, Benedici, benedici anche me, 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 benedici anche La benedizione è un gesto importante perché benedire in ebraico vuol dire mettere insieme le dualità, maschile, femminile, cielo, terra, uomo, donna, metterli insieme, abbracciare le diversità. E quando Gesù dice benedite chi vi maledisce è geniale perché la benedizione neutralizza il male, lo frena, lo ingabbia e allora siamo qui a benedire la vita nonostante tutto, a benedire tutto quello che abbiamo nel cuore. E allora quello che ci può mancare è il coraggio, il coraggio della donna come nel Vangelo di oggi che soffre da 12 anni perché sanguina da 12 anni e costringe Gesù a fermarsi. Il coraggio di Jairo che esce perché suo figlio sta male, esce dalla sinagoga. Il rapporto vero con Dio avviene quando senti che le parole sono troppe, che le parole sono delle intruse tra te e lui. Quando arrivano quei momenti di sapore vero della vita e non puoi scappare più, noi tendiamo sempre a scappare di fronte a un dolore, a una fatica. C'è dei momenti per fortuna della vita in cui non scappi più, non puoi più barare, sei davanti a te stesso e davanti a Dio. Criamo questo momento davanti a noi, davanti a Dio, di pura verità attraverso questa musica e un po' di silenzio. Criamo questo momento davanti a Dio. Criamo questo momento davanti a Dio. Criamo questo momento davanti a Dio. L'aiuto che proviamo a donare qui a Romena non è tanto di convertire a Dio, tanto Dio è a un passo e prima o poi nella vita a tutti si deve fare i conti con Dio, con l'infinito. Ma l'aiuto più grande che proviamo a dare è aiutare le persone ad ascoltarsi perché ormai non si ascolta più nessuno. A guardare meglio, a guardare meglio, aprire gli occhi e soprattutto ad alzarsi, visto che ormai ci si lamenta tutti. Alzati, alzati, alzati. Oltre te stesso, in quello squarcio fra luce e tenebra che sfuggi al giorno e sfugge alla notte. Amen. Parola di Dio. Parola di Dio. Dolce sentire come nel mio cuore. Ora umilmente sta nascendo amore. dolce è capire che non sono più solo, ma che sono parte di una immensa vita. che generosa risplende intorno a me, dono di Lui del suo immenso amore. ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna. la madre eterna. Il Signore sia con voi. dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava a lungo il mare. venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo. La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringera intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro, perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre, la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse, talità, cum, che significa, fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. La prima lettura del Libro della Sapienza diceva così Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte. La nostra esperienza invece dice il contrario, che le creature del mondo e dei bambini muoiono a dodici anni. O ci sono persone che da dodici anni hanno un tumore e non riescono a vivere. Io credo che non sia la sofferenza a migliorarci. Molti dicono che il dolore fa crescere. No, non è vero nulla. Io ho visto famiglie distrutte nel dolore. Se dentro quel dolore non ci metti amore, ti distruggi. E allora non è la sofferenza a migliorarci, ma l'amore che accompagna questa sofferenza. Perché senza l'amore la sofferenza devasta le persone, corrompe gli ambienti, ingigantisce a volte gli egoismi. Ma le creature sono sane. Questo è un grande messaggio. dentro di noi c'è qualcosa di sano. E non ci attende la morte. Ci attende la fioritura del nostro essere. La morte è illegittima. Gesù non ha amato mai la morte. Non ha sopportato la morte come facciamo noi. Non la sopportiamo. Ma Gesù ama non la morte. Ma ama chi muore. Ama chi sta vicino a chi muore. Ama quegli ultimi gesti che le persone care ti fanno prima di morire. Il darti un goccio d'acqua in bocca. Il tenerti la mano. Gesù dice alla donna La tua fede ti ha salvato. E dirà a Jairo Non temere. Continua solo ad avere fede. Cosa vuol dire questa fede? Jairo ha già fatto un gesto bellissimo. Lui che era il capo della sinagoga se ne frega della sinagoga esce fuori va a cercare Gesù perché la sua bambina sta male. quella bambina è più importante della sinagoga. È più importante di quel tempio di qualunque religione. Mi basta toccare il mantello dirà la donna sanguinante. Mi basta che tu entri nella mia casa dirà Jairo. questa povera poca fede. Cos'è la fede vera? La fede vera non è una certezza. Dice San Giovanni della Croce la fede vera è chiudere gli occhi e procedere al buio. Chi l'ha detto che quelli di chiesa hanno la fede vera? forse ce l'hanno qualunque persona che gli crolla tutto gli muore un figlio e la mattina si rialza chi ha un tumore e continua a lottare. La fede vera è chi ha il coraggio non la certezza ma il coraggio di chiudere gli occhi e continuare a fidarsi. Talita cum dice Gesù risorgi riprendi il cammino vedete in tutti quei genitori che noi avviciniamo a cui è morto il figlio a tante persone ferite la cosa che mi stupisce è che queste persone avrebbero tutto il diritto di maledire la vita per come gli è andata male che invece di maledirla continuano a portarla avanti quelli sono grandi quelli hanno fede davvero risorgi riprendi a camminare proprio da dove ti sei fermato e la forza di Dio è che ti aiuta a ripartire guardate la cosa più bella che per me ha detto Gesù vi ricordate quando tutto crolla quando muore quando rivede gli amici gli apostoli è dire ragazzi ricominciamo quanto è bello chi gli è fallito tutta la vita e invece di dire è finita dice ricominciamo questa è una grande fede Gesù dirà alla bambina non è morta dorme bello questo Dio che vede oltre la tua vita non è morta dorme bisognerebbe dircelo dentro di noi la tua vita non è morta non sarà mai morta e addormentata puoi sempre risvegliare la tua vita puoi sempre cambiare qualcosa della tua vita e continuare a credere che nella loro radice come diceva la prima lettura tutte le cose sono buone in esse non c'è veleno di morte non le può uccidere nessuno Dio è in noi come una presenza miracolosa che ci addita nuove mete di vita più intensa di gioia più profonda alzati cammina oltre lo sconforto oltre la malinconia perché fuori del sepolcro fuori di ogni sepolcro c'è primavera per la primavera Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce Ho attraversato dubbi e terre desolate Seguendo traiettorie sconosciute Perdendo la mia essenza chissà dove La vetta è solo l'altra faccia dell'abisso Per sprofondarci dentro basta solo un passo Ma quando ero sul punto di precipitare Mi camminavi accanto senza far rumore E ho cercato di raggiungerti ovunque Senza riuscire a possederti mai Nella perfezione dei dettagli e nelle coincidenze Ho provato a vivere nel mondo Senza dover di appartenere mai Evitando la mediocrità e le inutili apparenze Se il buio è solo allontanarsi dalla luce Nel mare del silenzio sento la tua voce Se tutto si trasforma in un amore Dal seme che marcisce nasce il nuovo fiore E ho imparato a vivere nel mondo Per riconoscerti ovunque Senza riuscire ad afferrarti mai E ho capito che non c'è distanza né separazione Ho imparato ad essere nel mondo Senza per questo appartenerti mai Ho trovato amore in ogni cellula della creazione Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce Camminerai al mio fianco Senza far rumore Alzati e guarda verso oriente Verso l'alba che aspettiamo Dove liberi abitiamo la vita E dove cantano i germogli Alzati e guarda verso oriente Verso la luce che arriva E questa luce rafforzi il mio impotente E poco bene Che prova a dare pace e armonia Al male di ogni giorno Alzati e guarda verso oriente Qui dove la terra sposa la luce Dio benedica la vanità Il rimorso Che il fuoco sani e l'acqua risvegli Tutto quello che abbiamo tradito Alzati e guarda verso oriente Dove la stella del mattino Guarda la faccia della luna E porta speranze nuove E ci apri alla larghezza E alla libertà delle vie di Dio Concludo con quest'albero Con questa pianta Le sorelle brasiliane Delle care sorelle che conosciamo Da tanti anni Missionarie in Brasile Ci hanno regalato Per i nostri 30 anni di Romena Questa pianta E' una pianta di senape Vi ricordate il Vangelo? Il chicchino di senape Il più piccolino che esista Piccino piccino Ma che riesce a diventare Una pianta così alta Dice Gesù nel Vangelo Che è la pianta più alta dell'orto E addirittura gli uccelli del cielo Possono farci il nido Vedete, non è una pianta di prepotenza Non è una quercia E' una piantina E mi piace pensare che noi di Romena Non siamo questa prepotenza Di questo cedro Di questa quercia Vedete, questa pianta di senape E' la più infestante di tutte E' come la zizzagna Anfila da tutte le parti La trovi sparsa da ogni lato Però è importante Perché da un piccolo seme Può nascere Una forza esplosiva Che gira il mondo Che fa girare la terra E allora pensiamo Ci siamo a volte molto piccoli Quasi un granellino di senape Ma abbiamo in noi una grande forza Quella di poter contagiare il mondo Quella di permettere Almeno a qualche uccellino Di farci il nido A qualche persona Di sentirsi a casa E allora possa la via crescere con voi Il vento essere alle vostre spalle Il sole scaldare il vostro viso E possa Dio tenervi nel palmo Della sua mano Prendetevi tempo per amare Perché questo è il privilegio Che Dio vi dà Prendetevi tempo per essere amabili Perché questo è il cammino della gioia Prendetevi tempo per ridere Perché il sorriso È la musica dell'anima Prendetevi tempo per amare Dio Amare la vita Amarvi fra di voi e fra di noi Con molta, molta tenerezza Perché la vita È troppo corta Per essere egoisti Dio ci benedica a tutti Padre e figlio E Spirito Santo Io vorrei ringraziare Don Gigi Per la giornata che ci ha fatto trascorrere qui a Romena Come centro diocesano Della famiglia della diocesi di Firenze Per la botta di vita Che tu ci ha dato oggi Per la botta di libertà Che tu ci ha fatto sperimentare E nulla Ti ringraziamo E sarà occasione anche di riflettere Sulle cose che tu ci ha detto stamani Che ci ha detto oggi nella messa E l'occasione anche per ritornare Quindi viva Romena E viva Don Gigi Vorrei dire a quelli di Firenze Di rimanere qui Poi dopo la messa E dopo il canto finale Quelli della comunione Si fermano qui Perché la nonna deve leggere Due righe per il suo neppote Va bene? Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.